hi guys piccolo video illustrativo di quelli che sono i nostri componenti di come si installano e come sono fatti allora come base di partenza qui prendiamo un nostro gng con base skeleton fresata lo utilizzeremo come modello per vedere le compatibilità e l'installazione dei vari componenti allora tutti i componenti tutti i componenti sono stati fatti con tecnologia sls che tradotto sarebbe selective laser sintering ovvero una tecnologia che ci ha permesso di avere il peso più ridotto sul mercato perché questi accessori sono veramente piume con una rifinitura pazzesca con dei dettagli veramente incredibili che probabilmente solo questa tecnologia riesce a dare e naturalmente una resistenza meccanica pazzesca indistruttibile partiamo direi dalle nostre outer barrel ultralight tutti i tubi che vedete sono in vero carbonio non è plastica rivestita o frappata di carbonio tutto vero carbonio con l'ultimo strato incrociato e finitura ultra gloss 3k quindi il tubo migliore esistente sul mercato compatibilità con tutti gli upper qui vediamo su un upper gng con una ghiera presa totalmente a caso ghiera che ha il solito passo dei key mode m lock di vari tipi perfettamente se la stringe dopo ovviamente a seconda del rail che installerete dovrete giocarvela con gli spessori o magari no ma quello con qualsiasi outer o rail che installate quindi queste sono le nostre outer barrel che vanno dai 15 ai 30 grammi a seconda della lunghezza disponibili in cinque colorazioni black red silver green e sky blue passiamo ai nostri ultralight cannon anch'essi solita tecnologia sls con tubo in vero carbonio quindi non plasticaccia rivestita vrappata in carbonio vero carbonio sempre con finitura ultimo strato incrociato e trasparente finitura di trasparente acrilico 3k ultra gloss vediamo se riusciamo a inquadrare la perfezione dei dettagli sls molti mi hanno chiesto come si installa è difficile l'installazione allora la vediamo subito questa è la outer barrel che noi forniamo compresa con il nostro speed cannon questa è quella compresa quindi se non volete acquistare ulteriori outer barrel questa la forniamo noi come si installa è veramente semplicissimo abbiamo studiato questo sistema incredibilmente semplice questo è un componente fornito naturalmente con passo standard per tutti gli app mettete la vostra outer che sia questa o che sia la vostra outer barrel con filetto sinistro destro indifferente questo pezzo ve lo avvitate se volete ve lo fermate con veramente una goccia di freno a filetti stringete bene ecco fatto da qui abbiamo il nostro cannon che va ad infilarsi naturalmente come da sito internet potete potete scegliere se averlo con o senza la slot per la tacca di mira quindi lo selezionate sulle note dove c'è la tacca di mira naturalmente noi la installiamo perfettamente in linea con il nostro logo che sarà centrale quindi dopo che avete montato questo voi non fate altro che montare questo allineate la slot con la vostra slitta qui e veramente con molta semplicità serrate leggermente questi grani a doppia punta naturalmente forniti ecco qua cannon montato questo è il risultato montato molto semplice sul sito lo troverete in tutte le versioni 7 pollici e 9 pollici black gold con il nostro pattern e red fire sempre con il nostro pattern queste non sono verniciature o pubicature fatte così tanto per fare queste sono verniciature in ceracote sopra il carbonio con la seconda finitura 3k ultra gloss quindi non c'è scalini non c'è assolutamente nulla sono pezzi si tamarri perché è molto palese che siano dei pezzi belli tamarri per chi desidera insomma per chi è abbastanza estroso e desidera farsi vedere ma sono pezzi di qualità estrema quindi non sono adesivi non è roba appiccicata sono pezzi di estrema qualità per ultimo andiamo a vedere il nostro dropstock anch'esso vero carbonio finitura 3k ultra gloss soliti componenti con tecnologia sls veramente tecnologia di ultima generazione tant'è che chi è nel mondo molti non conoscono neanche tale tecnologia rifinitura dei dettagli pazzesca estrema andiamo a vedere questi noi premetto che sul sito li forniamo in due versioni e tre colorazioni ci troverete la versione standard e la versione per mosfet e 2g ng o mosfet standard che sono due centimetri più lunghi mentre quelli standard andranno con titan o comunque con cavetterie senza mosfet esterno l'installazione ragazzi è semplicissima veramente molto semplice prendiamo il nostro dropstock ho tolto ora il mosfet per semplificare il tutto inseriamo i nostri cavi nell'ampissimo foro vite fornita andiamo a serrare la nostra vite con molta forza la resistenza è pazzesca qui abbiamo tutto il nostro spazio per le nostre batterie da tubo e andiamo a mettere il nostro tappo che verrà serrato dal grano preforato e prefilettato che troverete quindi andiamo a serrare questo con moltissima semplicità tac il vostro dropstock è montato indistruttibile e il risultato finale sarà questo inseriamo qui la nostra inner e questo è il nostro risultato finale veramente in modo semplicissimo compattissimo e la replica sarà una piuma veramente una piuma io grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti